Alessandro Cavallo uno dei ballerini che ha fatto parte della ventesima edizione di Amici, si è raccontato in un'intervista concessa al blog musicale Ritratti di Noti diretto da Raffaella Sbresch. L'ex allievo della nota scuola rispondendo alle domande della giornalista Giuliana Galasso ha confessato, Non voglio abbandonare quello che ho imparato ad Amici. Amici, Alessandro Cavallo chiarisce, continuerò a mettermi in gioco come ho sempre fatto. Alessandro Cavallo uno dei finalisti di Amici 20 ha concesso un'intervista al blog Ritratti di Noti alla giornalista Giuliana Galasso. Per iniziare il ballerino ha parlato dell'esperienza vissuta nel famoso programma di Canale 5, e, un percorso unico che mi ha migliorato molto e ha cambiato anche la mia concezione della danza. L'ex allievo di Lorella Cuccarini quando gli è stato chiesto se dopo il talent show continuerà a esibirsi solo con lo stile classico oppure perfezionando anche il moderno, ha risposto alla seguente maniera. Lo stile classico fa parte di me. Ma non voglio precludermi nulla. Voglio continuare a mettermi in gioco come ho sempre fatto e dedicarmi a diversi stili. Sono aperto a tutto quello che il mondo artistico vorrà. Alessandro Cavallo rompe il silenzio sui musicale dopo Amici, e... Un mondo nuovo per me. Sempre nel corso dell'intervista, Alessandro Cavallo si è espresso sul music. Dire che sono pronto è un parolone, perché è un mondo assolutamente nuovo per me e non è semplice. Affronterò anche questa esperienza che mi è stata offerta, cercando di dare del mio meglio. Inoltre il giovane ballerino ha speso ancora una volta delle bellissime parole per l'insegnante Lorella Cuccarini, e... Stata per me un grandissimo supporto. Mi sono affidato a lei totalmente e ho fatto bene, perché mi ha fatto fare un percorso fantastico all'interno del programma. Infine Alessandro che di recente ha svelato un retroscena su Amici 20, ha parlato della sua famiglia, sembra scontato dirlo ma è tutto. E... La mia forza. Il mio grande punto di appoggio. I miei familiari mi sono sempre stati vicini non prendendo mai alcuna decisione al posto mio luco, e lasciandomi sempre libero di scegliere e di sperimentare. Grazie. Grazie.